Ciao a tutti, sono Marco Bonaparte, uno dei titolari della RB Plaste qui di Pesaro e diciamo con questo messaggio vi voglio comunicare a chi mi ascolta che ho fatto una pubblicità con la TV Rossini TV, mi sono trovato molto bene, ho avuto diversi riscontri per la mia attività e con questo vi voglio dire se volete approfittare di questa emittente televisiva qui dalla zona vi trovate molto bene, ciao a tutti. Grazie